Ciao a tutti, benvenuti alla vostra amica, sì come ogni lunedì, play with me Allora, vedete qua delle patatine nuove, anche queste le ho trovate alla Conad della Salati Preziosi e sono della Disney Provincius Sì, vedete cosa c'è dentro, non lo so perché dietro dice solo All'interno è una fantastica sorpresa, pagate un euro, anche questo è 99 centesimi, non mi ricordo Anche se è 99 è sempre un euro Ok, decorazione Disney con Topolino e Minnie la facciamo con gli stick che ho trovato nelle patatine della settimana scorsa Perché mi piacevano tantissimo, ho preso questo paper tip qua che comunque richiama molto il fiocchetto dei cappelli della Minnie Anche se è l'inverso, i pallini dovrebbero essere bianchi, però fa niente Era quello che richiamava un pochino di più il tema E niente, andiamo a scrivere i giorni che vanno dal 5 all'11 di agosto Buon! Inizio agosto a tutti Di già, mamma mia Allora, 5 lunedì 6 martedì Lavoro Poi 7 mercoledì Dovrei teori essere in ferie 8 giovedì, idem Poi 9 venerdì anche Che bello, ti bere ferie Poi 10 sabato E pure qua Invece la domenica mi ho sperato meritato un relax perché comunque ero a casa, non era la mia Allora, scriviamo Ok Eccoci qua, adesso andiamo con l'urel Allora, rossa, 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 rossa Prendiamo un pastello Prendiamo un pastello Pastello, pastello Allora Andiamo a colorare la nostra scritta Sperato meritato un relax Ok Eccoci Eccoci Coloriamo bene Eccoci qua E adesso andiamo ad attaccare gli sticker Ecco Allora E sono quelli che abbiamo trovato l'ultima volta C'è mini Mini paperina Ci abbiamo Pluto Topolino Questa che doppia Magari no Allora vediamo Iniziamo Intanto a fare così Vediamo come sono E facciamo Facciamo che Ritagliamo via La scritta Ok E qua attacchiamo Topolino E qua la mini Appena riesco Non si stacca Mamma mia Poi con sto caldo Mi sudano le mani Eccoci qua Ci abbiamo fatto Però dopo abbiamo Sì Ci siamo Così Ecco Poi Facciamo un attimino così Magari giusto per Togliere un po' di Eccoci qua Ok Topolino Pronto Poi ci attacchiamo Ancora Topolina Tagliamo via un po' Il contorno Che tanto è tutto Il trasparente Dello sticker Possiamo Eliminarlo E questo lo metterei Sul Poi metterei Le loro due Qua Eccoci Li mettiamo qua Che bella Che è Poi Attacchiamo Loro due Così Scusate Così Topolino Ancora Ok Così Così Che questo Cip Ciop Li mettiamo qua Ok Adesso andiamo ad attaccare Qualcos'altro Vediamo Volevo metterci Magari No Questo Avevo trovato Dei Ah Sì Giusto per attaccarci Ancora qualcosina Qua Dove manca Così Così Anche qua Mi manca uno Poi ho un'altra Mini Però è doppia Non voglio portarci A carcere Questo per richiamare Un po' così Dai Vediamo Che avevo anche Il luogo Che voglio mettere Magari Facciamo Un bel Cuoriciotto Qua Facciamo così Tacchete E poi Questo Che era carino E poi direi Basta Sì Sì Se no diventa Troppo Giusto qua Perché mancavano E direi che così È bella pienotta Ci può stare Eccoci qua Andiamo a metterla Nell'agenda Il nostro Agosto Eccoci qua Agenda Per i saluti Sempre di ogni Iscrivetevi al canale Travate la campanellina Se non l'avete Ancora fatto Per non perdere Gli altri video In settimana Come vi dico sempre Ok E voilà Adesso appunto Andiamo a fare I saluti E poi apriamo Le patatine Scusate Tutto storto Che sto mettendo Emily Ciao Dani Ciao Sara Ciao Gavino Ciao Stefano Noero Ciao Anita Mirian Ciao Ciao Elisa Santoro Ciao Elisa Mesaroli Ciao Sissi Clietta Ciao Giada Boschetti Ciao Giulia Meteori Ciao Marina Schenone Ciao Antonia D'Achille Ciao Francesca Ducca Ciao Francesca Galeone Ciao Poi Teresa Cattia E Angelica Da Roma Ciao Lara Pilati Ciao Ecco qua Chiudiamo La nostra agenda Sul nostro Disney Topolino E andiamo Ora a prendere Le patatine Disney Princess Siamo tutti In tema Disney Almeno Le confezioni Sono sempre Stupende All'interno Una fantastica Sorpresa Andiamo a vedere Mais And gadget Perciò Sono quelle Al mais Credo Sì I fornetti Al mais Che vado a mangiare Ne ho dovuto due Andiamo a cercare La Sorpresa Che qua non vedo Ragazzi Ma non ci posso Credere Ma non sento Qualcosa Allora Ok Mi dà tanto L'impressione Che anche questi Siano sticker Vediamo Prima sorpresina Tolta Andiamo a vedere Oh che bello Ci sono i sticker Ma sono fantastici Questi sticker Sono stupendi Mamma che bello Abbiamo La principessa Ranocchio Questa penso Che sia la bella Addormentata Corrigetemi se sbaglio Cenerentola Sono sicura Al cento per cento E lei Dovrebbe essere Mulan Ma che belle Che sono Poi abbiamo subito L'altro Che sicuro Speriamo Con la mia fortuna Sarà doppio Di sicuro Perché sicuramente Mangiamo altri Due connetti Intanto che cerchiamo La bustina Allora Eccola qua Aspettate Che ho tutte le mani Un po' Punte E andiamo Ad aprire Subito anche La seconda bustina Del secondo pacchetto E vediamo Ho già Travisto qualcosa Ai 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 E infatti Questa è doppia Ok E te pareva Ma figurati Se io non trovo Una cosa non doppia A cenerentola Ma non ci posso Credere Cioè Due pacchetti Doppio Sempre le mie sorpresine Sempre Sempre doppio Intanto vi ho fatto Anche sballonzolare Per la tristezza Pazienza dai Però almeno Sono belli Di sticker Meritano Ma caspiterina Però non doppi Poi magari Ci sono solo questi Ma non credo Perché anche Mini erano diversi A parte un doppio L'avevo trovati diversi Va bene Dai Niente Io vi saluto Vi faccio Buona settimana A tutti Ci vediamo L'appuntamento Sempre lunedì prossimo Col playing with me Ogni lunedì E in settimana Gli altri video Non perdetevi Un bacione Buone a tutti Buon inizio agosto A tutti Perché ormai Vabbè Siamo già Inoltrati E niente Buona settimana A tutti Ciao ciao Buona settimana Buona settimana